Buongiorno e bentrovati al primo appuntamento della settimana con Mattino 6, lunedì 6 marzo 2017, oggi si ricorda la Beata Rosa da Viterbo. Apriamo la nostra consueta rassegna stampa con le prime pagine dei giornali, partiamo dai quotidiani abruzzesi, dalle quattro edizioni del centro, iniziamo con l'edizione di Pescara che è tratta tutta pagina, una tragedia avvenuta ieri mattina a Montesilvano a fuoco, un appartamento di un palazzo di via Isonso per sfuggire alle fiamme, si lancia dal sesto piano, muore un 52enne senegalese e poi Resort Fantasma truffa da 80 mila euro, Pescara parla alla vittima così mi hanno preso i risparmi di una vita. Vediamo le altre notizie che riguardano Pescara e il comprensorio adriatico, scizione nel PD, democratici verso il congresso, altre adesioni ad articolo 1 e poi Trenitalia, nuove corse veloci per i pendolari abruzzesi, mercato etnico nel tunnel della stazione a Pescara, il progetto oggi approda in consiglio comunale e poi a Cepagatti in tanti ai funerali per l'addio al medico Carlo Santucione. Poi lo sport in basso in chiave Pescara, Pescara battuto sabato nell'anticipo di campionato per 3 a 1 a Genova in casa della Sampdoria, si guarda al futuro e Mancuso è il bomber del futuro, la punta della San Benedettese e a un passo dal Pescara piace anche il giovane difensore calabresi, Mancuso a segno con un poker di reti nel 5 a 2 dei marchigiani in casa del Sud Tirole. Poi il personaggio, Coulibaly, il centrocampista, 18enne senegalese del Pescara, messo sotto contratto tre giorni fa dalla società Bianca Azzurra, fa impazzire le grandi della Serie A. Lasciamo dunque la prima pagina del centro, edizione di Pescara, andiamo a vedere quella di Chieti, la cronaca pugnalate al 24enne, ci sono due indagati, giovani campani accusati del tentato omicidio di Cipressi. Anche sull'edizione di Chieti del centro c'è la foto su questa tragedia accaduta a Montesilvano, vediamo altri titoli invece che riguardano la provincia di Chieti. Palombaro salvati sulla maiella, quattro lancianesi dispersi e poi la ventricina di Scerni, il miglior salame d'Italia. A Guardia Grele l'addio al frate, amico dei giovani, muore padre Bonaventura, un simbolo dei cappuccini e poi lo sport, la pallavolo di Serie A2 con l'impavida Sieg Cortona che compie tre passi verso la salvezza. Edizione di Teramo del centro, Bancomat svaliggiato con l'esplosivo colpo alla Tercas di Mociano Sant'Angelo il bottino e di 50 mila euro. E poi terremoto Faiano, paese da demolire, le case sono irrecuperabili e a Giulianova l'addio a Lino Manocchia, intervistò Presidenti Estar, il giornalista di origine giuliese. Teramo una dura punizione, siamo al calcio di Lega Pro, troppi errori difensivi ed il Venezia segna quattro gol la squadra di Pippo Inzaghi, passa al Bonolis per 4-1 e poi nel campionato regionale di promozione il Giulianova vola a più otto il traguardo dell'eccellenza. Ora è più vicino e siamo alla prima pagina del centro, edizione dell'Aquila, Gran Sasso chiude la scuola di sci e scoppia la polemica, il sindaco dell'Aquila Cialente scrive al ministro del Rio e dice atto gravissimo. Avezzano, coca e favori, gentile ai vertici dello spaccio e poi a Sulmona, assenteismo all'Asl, pronte le lettere di licenziamento e per il calcio di serie D la crisi dell'Aquila, l'Aquila che perde anche la faccia con Battistini in panchina, prima sconfitta in casa, il Flaminia si è imposto ieri alla Gran Sasso d'Italia per 3-0, capò anche l'Avezzano sul campo del Monterosi, per quanto riguarda il rugby di serie A, l'Aquila vince e prenota la semifinale. Prima pagina del certo Abruzzo del messaggero, vola dal palazzo in fiamme, Montesilvano morto sul colpo un senegalese di 52 anni di Allondiaga, precipitato dal sesto piano, il rogo causato probabilmente dai carboni ardenti usati per cucinare. E poi Chieti, due indagati per il tentato omicidio, due campani nel mirino degli inquirenti, poi a Pescara mai restaurate le naia di Di Prinzio, l'arte tradita, leggiamo in questo articolo di Spalla. E poi la fotonotizia, Gran Sasso chiude anche la scuola di sci, la stagione flop di Campo Imperatore e poi il volo di Ginobili a New York, tutto esaurito, 6 mila spettatori al Radio City Music Hall, esperienza indimenticabile, dicono i cantanti, per tutti noi. Abbiamo visto dunque le prime pagine dei giornali abruzzesi oggi in edicola. Ricordo che come ogni lunedì non è invece in edicola il quotidiano La Città, che ritroveremo ovviamente domani nell'appuntamento del martedì con la nostra rassegna stampa. Possiamo andare a vedere velocemente i titoli dei quotidiani nazionali che troverete oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Gentiloni, fiducia in Lotti, ma un po' meno in Consip, si parla dell'inchiesta della Procura di Roma. E poi il fatto grave di cronaca accaduto in Puglia che ha avuto una risonanza nazionale a Sansevero in provincia di Foggia. Sansevero sotto attacco, spari sulle auto dei poliziotti inviati a combattere la criminalità. Il sindaco di Sansevero dice guerra allo Stato e il Viminale manda nuovi rinforzi. Il tempo, Silvio decidi se vuoi vincere, Giorgia Meloni risponde a Berlusconi per allearsi con noi. Accetti le primarie, no al partito unico, ma Listone può portarci, Listone al 40%, mai con Grillo e come il PD. E poi il calcio in salsa romana, in questo caso effetto derby, la Lazio Vora passa per 2 a 0 al Dallara di Bologna. Sole 24 ore, professione giovani in fuga, calo delle vocazioni di oltre il 40% per le professioni classiche come quelle dei commercialisti e degli ingegneri. Questi quotidiani nazionali oggi in edicola, lunedì meno giornali, sono sul sito nazionale dove andiamo ovviamente a pescare i quotidiani che sono in edicola a lunedì. Allora possiamo andare a vedere a proposito di quotidiani del lunedì anche i titoli dei quotidiani sportivi che ovviamente vanno per la maggiore proprio nel giorno canonico dei commenti per quanto riguarda le partite di calcio. Partiamo da Tutto Sport, Re Gallo, tripletta e trionfo Torino in rimonta sul Palermo. Belotti stacca Iguain e Geco nella classifica cannonieri, tre gol, tripletta dell'attaccante del Torino che aveva fatto male anche al Pescara qualche settimana fa quando i biancazzurri giocarono al comunale all'Olimpico Grande Torino contro la formazione Granata e poi Bonucci una testata d'amore. Il gol del difensore Juventino permette alla vecchia signora di pareggiare per 1-1 a Udine Bonucci che è salito agli onori della cronaca per il diverbio con Allegri, forse anche qualcosa in più di un diverbio ma per il bene della Juventus si va avanti e ieri Bonucci è tornato anche al gol. Vediamo qualche altro titolo da Tutto Sport, goleada Inter, Manita Pioli, Anticonte, Inter che passa per 5-1 sul campo del Cagliari e poi Lazio, blitz da quarto posto. Lasciamo Tutto Sport, vediamo il Corriere dello Sport, Belotti pazzesco, 22 gol, fenomeno, titolo del Corriere dello Sport. Abbiamo un bomber mondiale, il Torino stende il Palermo 3-1 con una favolosa tripletta del Gallo e poi in alto Juve, primo pareggio con Bonucci che va a Juventus, che va a più 8 sulla seconda. La Roma battuta, lo ricordiamo, nell'anticipo casalingo di sabato dal redivivo Napoli di Maurizio Sarri e poi Manita dell'Inter nello show di Perisic, 5-1, Cagliari travolto al Sant'Elia. E poi il calcio elegge il Presidente ed è sfida aperta perché oggi ci saranno le elezioni per il Presidente della FIGC, si affrontano in questo duello il Presidente uscente Carlo Tavecchio ed l'ex Presidente della Lega di Serie B Andrea Abodi. Questi sono dunque i due giornali sportivi che prendiamo in esame. Possiamo a questo punto tornare sui quotidiani di casa nostra, in particolare sul centro, per andare a vedere le pagine interne del giornale con ovviamente la crona che è tutto quello che riguarda la nostra regione, che riguarda le nostre province. Partiamo dalla seconda pagina, da questa tragedia accaduta ieri mattina, poco dopo le 10 a Montesilvano, in una palazzina di via Isonso, immigrato, cade dal sesto piano e muore per sfuggire al rogo. La vittima è un senegalese clandestino, 52 anni, che due anni fa era stato espulso dall'Italia, intossicato. Un connazionale lascia cura mentre i pompieri stavano per trarlo in salvo. Vedete queste foto, vedete il fumo, vedete anche proprio le fasi in questa foto tagliata dalla pagina, proprio dei secondi seguenti allo scoppio di questo terribile rogo. E poi faceva la spola con il Portogallo, un diaga diallo, secondo i coinquilini, era rientrato da pochi giorni in città. E poi in basso vedete la testimonianza di una donna, una testimone, scena da torri gemelle, residenti evacuati e malori dopo la tragedia. E c'è chi adesso accusa un disastro annunciato. Il Palazzo della Discordia, riunioni finite in rissa e ricorsi al giudice nel condominio dell'Eliti. Tra gli ex amministratori di questo condominio anche Stefania Ariosto, già fidanzata di Vittorio Dotti e testimone chiave dei PM durante Tangentopoli. E poi si riapre lo scontro sugli irregolari. Il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, ieri lo vedete nella foto sul luogo della tragedia, ha detto il sindaco, qui esempio di integrazione. Poi Aliano, consigliere di maggioranza, chiede ora però misure drastiche. In basso i proprietari, sono due senegalesi, erano ospiti, hanno detto agli inquirenti, rischiano soltanto una multa. Questa pagina che riguarda la politica nazionale, Consi, in pieme indagano sulle fughe di notizie, con Gentiloni che poi blinda il ministro Lotti. Si parla anche di conti pubblici, tasse giù, quelle sul lavoro. Arriviamo velocemente alle pagine che riguardano la nostra regione. La prima pagina di Cronaca d'Abruzzo. Si parla di politica. Abruzzo in movimento, il PD verso il congresso. Intanto ci sono nuove adesioni ad articolo 1. Addio al partito per l'ex segretario provinciale dell'Aquila Ranieri e Alessiani, ex responsabile regionale economia. A Pescara va via il consigliere Gaspari. E poi alla Camera, vedete il titolo di spalla, Melilla, il parlamentare abruzzese Gianni Melilla, passa con l'MDP e lascia l'ufficio di presidenza. A centro pagina c'è questo richiamo che riguarda l'NCD, scusate, Terramano, bocche cucite fino al 18 perché si va verso lo scioglimento, lo ha detto il leader nazionale del nuovo centrodestra, Alfano, proprio lo scioglimento dell'NCD. Vedremo cosa decideranno i parlamentari e i politici abruzzesi. Cambiando pagina e parlando di trasporti, in basso si parla di nuovi treni veloci per i pendolari abruzzesi di Pangrazio. Il presidente del Consiglio regionale ha incontrato i vertici di Trenitalia che hanno confermato il piano di investimenti per la nostra regione. e siamo alla cronaca di Pescara. Dal centro il blef del resort truffata dal promotore così ho visto sparire i risparmi di una vita. Una pescarese racconta come ha perso 80.000 euro, prima sono stata raggirata e ingannata, poi lasciata sola e poi di spalla. L'arresto dei carabinieri spacciadroga sulla Tivurtina, bloccato dai carabinieri accaduto sabato pomeriggio a Pescara. In basso blitz della polizia al Megà, il gestore, tutto in regola con i controlli. Si vede chi è a posto. E siamo ancora ad un'altra pagina della cronaca di Pescara. Mercato etnico nel tunnel. Oggi il progetto approda in aula. Si terrà il consiglio comunale a Pescara. I gruppi di centrodestra annunciano ostruzionismo con 750 emendamenti. Antonelli, capogruppo di Forza Italia, dice delibera vergognosa con spese lievitate in modo esponenziale. E poi a città Sant'Angelo, sinistra italiana, una donna alla Linda SEPA, dunque al vertice della municipalizzata comunale. E poi in basso terapia pediatrica subintensiva. Mancano gli arredi. Il reparto non apre. Vedete nella foto Andrea Sciarretta, il padre di Noemi. E poi in basso a Popoli muore in casa a 56 anni. Il corpo trovato dai vigili del fuoco. Si tratterebbe di una scomparsa, di una morte per un malore. Andiamo ancora avanti. I funerali del medico. Lacrime e ricordi commossi a Cepagatti per il saluto al medico Carlo Santuccioni. In tanti a Cepagatti hanno dato l'addio anche all'ex amministratore comunale. La figlia camminava a testa alta, insegnava l'onestà. La bici, suo cruccio e diletto. In tanti lo vedete anche dalle foto. Per l'ultimo saluto al medico di Cepagatti, Carlo Santuccioni, scomparso sabato scorso. E poi chiese sfregiate dal sisma in ritardi. Otto anni dopo il terremoto i soldi ci sono, ma nell'area vestina i cantieri stentano a ripartire. Poi in basso si parla di solidarietà perché Solenghi e Dapporto, comico, famoso comico di quello che fu una volta il trio e Massimo Dapporto, noto artista romano, scendono in campo per la Croce Rossa italiana a Città Sant'Angelo. Siamo alla pagina di Chieti del centro la violenza. In città pugnalano 24enne Teatino, due indagati chieti, giovani campani accusati del tentato omicidio di Cipressi. La polizia è a un passo dal terzo complice fuggito. E poi si parla di Sasi a Lanciano, una stangata da 6 milioni sulla Sasi, mentre a Guardia Grele arriva l'addio al frate amico dei giovani, scomparso padre Bonaventura a 77 anni, oggi in paese si terranno i funerali del religioso. E poi in basso premio per Scerni, Scerni di vasto perché la ventricina vastese è il miglior salame d'Italia. Siamo alla pagina dell'Aquila, sempre dalle colonne del centro, in questo caso dalla provincia perché siamo nell'area Peligna a Sulmona. Le furbette del cartellino assisto a un disabile, ma era in Germania a spunto il nuovo caso di assenteismo con la legge 104 nella ASLE per altri due dipendenti. Pronte le lettere di licenziamento. E poi siamo a Canistro con fiuggino acqua non utilizzabile. Canistro, il comune boccia la richiesta di Colella. No all'imbottigliamento. E poi in basso la cronaca Cavezzano, gentile al vertice della rete di spaccio. Nuovi particolari sul traffico di droga, oggi interrogatori delle Poliziotto e degli altri arrestati. Siamo alla pagina di Teramo, del centro. La cronaca, la banda della bomba, salto al bancomat con l'esplosivo, colpo con il gas acetilene alla Tercas di Mosciano Paese. Locali devastati dallo scoppio. Il bottino è di 50.000 euro. I precedenti, vedete, è il sesto episodio in quattro mesi. Nel Teramano e poi in basso si parla di ricostruzione di post terremoto. E a Faiano, il Paese destinato alla demolizione, la maggior parte delle case irrecuperabile. Dopo il sisma, il sindaco dice solo così potremo ricostruire. Siamo arrivati alle pagine della cultura e dello sport, ma prima di parlare di sport lo faremo come sempre abbondantemente nella seconda parte andando a vedere i servizi delle partite di ieri giocate dalle formazioni abruzzesi. Domenica, ieri e anche sabato avevamo parlato abbondantemente del Pescara, della sconfitta dei Biancazzurri sabato nella gara del Marassi Luigi Ferraris di Genova contro la Sampdoria. Oggi volgeremo lo sguardo soprattutto alla Lega Pro con la sconfitta del Teramo in casa per 4-1 con il Venezia. E poi parleremo come sempre in maniera dettagliata del campionato di Serie D, perché ieri ci sono state gare importanti e non tutte fortunate, bisogna dirlo, per le nostre formazioni. Ma andiamo per ordine, ripartiamo dalla cronaca delle nostre province, dal quotidiano Il Messaggero, dall'inserto Abruzzo, partiamo dalla cronaca di Pescara, l'apertura è dedicata anche in questo caso alla tragedia di ieri mattina a Montesilvano. Vola giù dalla casa in fiamme e muore incendio in un appartamento in Via Sonso a Montesilvano, Senegalese perde l'appiglio e precipita. L'altro, salvato dai vigili del fuoco, la scena terrificante, immortalata con un telefonino, sotto shock gli amici e i vicini. Fra le cause l'uso di carbone, poi la vicina, inutili, i miei secchi d'acqua, un tugurio con 12 materassi, dice Carlo. E poi la cronaca, Blizza Arrancitelli, arrestato lo spacciatore del sabato, in basso, prostitura rapinata in casa da finti agenti, notte da incubo, a Francavilla al mare. Siamo la pagina dell'Aquila, Gran Sasso, chiude la scuola di sci, poche speranze per la riapertura, Cordeschi, la stagione forse andata, il danno di immagine è mostruoso. L'ira di Giuliani, noi andiamo avanti. E del sindaco, che dice Massimo Cialente, il sindaco dell'Aquila, scriverò al ministro del Rio. Di spalla si parla di politica, delle elezioni amministrative che si terranno all'Aquila e il PD va avanti con il pressing a tutto campo per far candidare Giovanni Lolli, attuale vicepresidente della regione, proposto di votare per le primarie il 2 aprile, ipotesi di una lista di Cialente. E poi i documenti, l'Iris, ecco le due lettere chiave, sul piede di guerra anche gli abbonati, si parla sempre della vicenda della chiusura in alto della scuola di sci, sul piede di guerra anche gli abbonati che hanno acquistato gli ski pass stagionali. E poi la cronaca, presunta truffa post-sisma in tre rinviati a giudizio. In basso il tempo crematorio non si farà, la giunta ci ripensa. Siamo alla pagina di Avezzano e Sulmona, ferrovia scetticismo sul piano di rilancio, ma Peppe Di Pangrazio rassicura, prevedo miglioramente, subito raddoppiati i collegamenti con Pescara e sul Roma. Ovviamente si parla dei pendolari, soprattutto della Marsica che quotidianamente devono raggiungere Pescara da una parte e Roma dall'altra. I lavori a Mandela non danneggeranno l'Abruzzo e gli utenti ne saranno di sicuro molto soddisfatti, dicono i vertici di Ferrovie Italia. E poi vediamo altre notizie. Ancora Avezzano, il Salviano infestato dai cinghiali, mentre Cascere ufficializza la candidatura al municipio. E poi Scanno, Corte dei Conti condanna per ex amministratori. In basso altre due notizie, la prima che arriva da Avezzano, la Balsorio Alconi con l'ok del sindaco e poi sul Mona, strade come groviere, un coro di proteste nella città Peligna. Siamo alla pagina del messaggero, sempre in questo caso che riguarda Chieti, tentato omicidio a Chieti Scalo, due giovani sono indagati, avrebbero prima colpito Cipressi e poi si sono schiantati con l'auto. Saranno decisivi gli esami del DNA, la polizia di Chieti, dalla caccia al terzo complice. Ci spostiamo a Lanciano perché il Palazzo Studi sarà intitolato al professor Marcello De Cecco, professore abruzzese, scomparso nei giorni scorsi, mentre ad Ortona si parla di riserve naturali, chiesto fondo di 375 mila euro. E poi in basso la primaria di Mozzagrogna, ospite a Roma del presidente della Repubblica Mattarella, si parla di scuole d'ok e dunque in evidenza anche una scuola della nostra regione, mentre a vasto dimissioni di Del Casale le opposizioni attaccano, in questo caso si parla di politica. Ci spostiamo a Teramo, la pagina di Teramo del messaggero, Diga di Campotosto e Stallo sull'aumento dell'invaso, gli agricoltori premono affinché sia garantita più erogazione di acqua. I comuni della Valvomano in questo caso però non hanno un piano di evacuazione, palla che passa alla regione. E poi di spalla blizze dei carabinieri del Noe in due locali per il rumore a Giulianova ed esposto contro un altro barista che replica su Facebook. E poi a Giulianova il cordoglio del sindaco Francesco Mastromauro per la scomparsa del giornalista Lino Manocchia. Tortoreto, allarme topi, denuncia ai carabinieri. E poi in basso ritroviamo la notizia che avevamo visto anche sul centro, la banda del Bancomat torna a colpire filiali Tercas. Quinto colpo in tre mesi, il bottino ammonta circa 30 mila euro. Dunque un bottino importante per questo colpo portato a termine nell'istituto di credito di Mosciano Paese. Allora siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport del messaggero. Possiamo dunque fermarci per qualche minuto, andare a vedere anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Poi come sempre torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 che sarà interamente dedicata allo sport. Eccoci in studio per la seconda parte di Mattino 6. Possiamo ripartire dal quotidiano il centro e aprire la pagina dello sport. Pescara c'è Mancuso per il futuro. Questo il titolo principale che troviamo sulla prima pagina dello sport del quotidiano il centro che vedremo inquadrata fra qualche istante. Eccola qui Sebastiani per restare in Serie A servirebbe un miracolo. E poi il bomber della San Benedettese ad un passo. Avevamo visto questa notizia anche come richiamo nella prima pagina del centro. E poi vediamo gli altri titoli che troveremo, gli argomenti e gli articoli che troveremo all'interno delle pagine sportive. Terramolotta ma è travolto dal Venezia. Poi Serie D l'Aquila contestata colpo del San Nicolò. E poi il derby di giornata che va al Pineto. Eccellenza Martinsicuro accelera soltanto i nero stellati tengono il passo. E poi la promozione. La Torrese cade ed il Real Giulianova fa il vuoto alle spalle. Due notizie di sport nazionale in basso. Lo sci in Corea del Sud goggia una stella nello sci italiano. Dopo la discesa si aggiudica anche il Super G beffando Lavon. E poi il ciclismo perché Nibali e Quintana parteciperanno alla Tirreno Adriatico. Mercoledì il via della corsa a tappe che quest'anno però non passerà in Abruzzo. Possiamo andare a vedere le altre pagine che riguardano il Pescara. Parola a Sebastiani. Parla il presidente della formazione Biancazzurra e dice Pescara per salvarti serve un miracolo. Il presidente deluso per il brutto secondo tempo con la Sampdoria. Vediamo i due sommari sull'intervista del presidente Sebastiani. A Geno Nuovo Calo nella ripresa. Evidentemente dice il presidente Biancazzurro c'è stato qualche problema nella preparazione fisica. Effetto Zeman svanito mi viene da ridere. Lui ha bisogno di tempo. E poi su Gilardino che si opera mercoledì dice il presidente un ragazzo d'oro non è venuto a svernare ha rinunciato ad un altro anno di contratto con l'Empoli pur di vestire la maglia Biancazzurra ma resta il fatto che si potrebbe arrivare alla risoluzione del contratto tra il Pescara e l'ex giocatore empolese. Poi il mercato mancuso ad un passo dal Defino piace Calabresi il bomber della San Benedettese pronto a firmare un triennale monitorato il giovane difensore della Roma. Si valuta anche Capradossi del Bari dal Perugia tornerà Nicastro e dal Trapani il portiere Pigliacelli. Tanti giocatori del Pescara che militano e anche con profitto in formazioni cadette. E poi dai barconi al sogno tutti pazzi per Coulibaly Inter. Atalanta e Napoli seguono il senegalese. Il Pescara ha avvisato la Juve. Lui festeggia con le lasagne. Il centrocampista domenica potrebbe essere anche convocato da Zemane portato in panchina per la gara con l'Udinese. Ausilio direttore sportivo dell'Inter ha già preso informazioni paratici della Juventus. È pronto all'assalto dunque Calibaly interessa le formazioni, le massime espressioni calcistiche di Serie A e dunque questo potrebbe essere davvero l'ennesimo affare, l'ennesima plusvalenza per il Pescara che ha creduto in questo giovane che è stato contrattualizzato proprio nei giorni scorsi al compimento del suo diciottesimo anno. Lasciamo il Pescara ma parliamo ancora di Serie A per vedere la doppia pagina che riguarda il massimo campionato con le gare giocate ieri. Pescara aveva anticipato a sabato con la Juve che pareggia per 1 a 1 a Udine e poi in basso vedete il calcio sceglie il futuro Tavecchio o Abodi. Oggi è l'elezione del nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e poi nella pagina seguente manita dell'Inter al Cagliari, Perisic e Banega da urlo, Gallo, Belotti, Fatrisse ed è capocannoniere Torino che batte il Palermo per 3 a 1, Inter come detto che passa a Cagliari per 5 a 1, poi in basso le altre partite la vittoria della Lazio a Bologna per 2 a 0, il pareggio senza reti fra Atalanta e Fiorentina, la vittoria del Genova ad Empoli per 2 a 0, questo è un risultato da sottolineare, Genova che aveva perso a Pescara per 5 a 0 in crisi, aveva esonerato Iuric domenica scorsa il pareggio otto giorni fa in casa con il Bologna in Estremis, ieri la vittoria, la prima vittoria della gestione Mandorlini in casa Rosso e Blu e poi lo 0 a 0 fra Crotone e Sassuolo. Andiamo avanti e siamo alla pagina della Lega Pro di Laga, la capolista, si parla del Venezia di Vippo Inzaghi, il Venezia è troppo forte, non basta al Teramo una mezz'ora da Leoni, nell'altra pagina Inzaghi parla il trainer lagunare e dice qui c'erano tante insidie, abbiamo sofferto un tempo in basso, Ugolotti il tecnico Teramano dice non si possono fare certi regali. Andiamo a vedere le pagine che riguardano la Serie B e la Lega Pro anche sul messaggero e poi andremo a vedere il servizio su questa sconfitta casalinga dei Biancorossi, servizio curato da Ania Cantagalli. Teramo che tra l'altro vi anticipo domenica prossima avrà una gara delicata a Bergamo in casa dell'Albinoleff e dunque per i Biancorossi anche alla luce di alcuni risultati di ieri sarà fondamentale fare risultato in casa della formazione bergamasca. Vediamo la prima pagina dello sport del messaggero Pescara, la svolta non c'è, solo piccoli miglioramenti ma il cambio di passo atteso non si è visto e poi in società comincia una settimana decisiva perché si parla anche della trattativa tra il presidente Sebastiani e l'ex amministratore delegato e socio attuale del Pescara Danilo Giannascoli. Poi l'infortunio, Girardino si opera, campionato finito e poi in basso Benalì pronto a restare anche in Serie B, un po' alla volta stiamo imparando il calcio che vuole il nuovo tecnico ma purtroppo ci serve tempo, dice Benalì che è pronto a restare a Pescara anche nel campionato di Serie B. E poi Uragano-Venezia sul Teramo, la capolista passa Albonolis per 1-4, passo falso per ottenere la salvezza diretta. Ugo Lotti commessi errori imperdonabili e poi da Bentivoglio e Inzaghi l'onore delle armi ai Biancorossi. Ma dopo aver letto andiamo a vedere le immagini, dunque il servizio di Ana Cantagalli sulla sconfitta del Teramo che perde Albonolis per 4-1 con il Venezia. Un Teramo che esce tra gli applausi dello stadio non fa il miracolo. Il Venezia supera i Biancorossi 4-1 Albonolis approfittando delle solite defiance difensive che condannano la scuola di Ugolotti adirato a fine gara al secondo K.O. consecutivo. Per i Lagunari invece matura Piano Daccio il quinto successo di fila, ormai sempre più lanciati in vetta. I Biancorossi non hanno un approccio idilliaco, Marsura ci prova subito ma trova Narciso pronto. Nulla può invece il portiere del Teramo qualche minuto dopo quando Domizzi beffa tutti in area dagli sviluppi di un angolo per firmare il vantaggio del Venezia. Subito dopo c'è un contatto in area tra lo stesso Domizzi e Barbuti con il direttore di gara che fa però proseguire non ravvisando la massima punizione. A suonare la sveglia per il Teramo ci pensa Di Paolo Antonio. Attraversa che l'esterno coglie al quarto d'ora di gioco cambia l'atteggiamento dei compagni. Da quel momento la scuola di Ugolotti fa possesso e lascia al Venezia le ripartenze. La beffa arriva prima di rientrare negli spogliatoi. Geico dialoga con Marsura che sigla il raddoppio per il Venezia con la difesa biancorossa ancora una volta colta di sorpresa. In apertura di ripresa il Venezia pareggia il conto dei legni con Geico che centra la traversa di testa. Ugolotti fa esordire poi Spighi al posto di speranza ed inserisce anche Fratangelo per Ilari. Lo stesso Spighi sbaglia poco dopo l'appoggio e fa partire un contropiede con Marsura che Caidi è costretto ad abbattere rimediando un cartellino giallo che gli farà saltare la prossima gara. Dagli sviluppi del successivo calcio di punizione Bentivoglio beffa Narciso per il Trist del Venezia. Il Teramo prova a reagire con il giovane Fratangelo che al diciottesimo mette in mezzo dalla destra trovando un Sanzovini bravo in acrobazia a segnare. Il Venezia prova a spegnere ogni speranza dei biancorossi con Ferrari che però trova Narciso pronto a fermare il suo tentativo. Il gol segnato non dà al Teramo il sacro furore di provare a cercare fino alla fine perlomeno il pareggio e lo stesso Ferrari poco prima della fine manda i titoli di coda. Arriva così la seconda sconfitta consecutiva per i biancorossi e domenica prossima in casa dell'Albino Leffe sarà obbligatorio provare a muovere la classifica. Questo il servizio sulla sconfitta del Teramo. Teramo che vede tra l'altro l'ultimo posto ad appena un punto perché nel posticipo di ieri sera il Fano è andato a vincere per 2 a 0 al Delconero di Ancona. Dunque in classifica il Fano ha 23 punti. Lo possiamo vedere dalla graduatoria qui inquadrata proprio dalle pagine del centro. Il Fano ha 23 punti ed è ultimo al penultimo posto. C'è un terzetto Lumezzane, Ancona e Teramo con 24. Poi staccate Modena e Mantova con il Fornì che hanno 29 punti. Dunque il Teramo ad una sola lunghezza dall'ultimo posto. Dunque come diceva giustamente Ania Cantagalli sarà obbligatorio domenica fare risultato in casa dell'Albino Leffe. Siamo alla pagina, alla prima pagina che riguarda la serie D e se Teramo piange l'Aquila sicuramente non ride, anzi è sotto shock e perde anche la faccia. Il rosso-blu è battuto in casa per 3 a 0 dal Flaminia con Battistini. Prima sconfitta interna. Possiamo vedere un po' di immagini con soprattutto le immagini dei gol della formazione ospite ieri al Gran Sasso di Toracconcia d'Italia. A Flaminia che subisce, che segna il primo gol. L'autorete di Pupeschi vedete in scivolata il giocatore dell'Aquila nel tentativo di anticipare un avversario. Mette il pallone alle spalle del suo portiere. Siamo al sesto del secondo tempo e poi al venticinquesimo c'è il raddoppio per il Flaminia di Lucchese in classica azione di contropiede e poi due minuti dopo il Tris firmato da Cardillo. Crossa centroarea. I difensori dell'Aquila fanno le belle statuine. Per Cardillo non ci sono problemi a mettere il pallone in rete per il 3 a 0 della formazione rosso-blu. Rosso-blu come i colori dell'Aquila in questo caso però ha festeggiato la vittoria la formazione guidata da mister Vigna. Ieri c'è stato anche l'esordio sulla panchina della formazione aquilana di mister Pierfrancesco Battistini. Un esordio davvero negativo sotto tutti i punti di vista anche perché nell'Aquila c'erano ieri, ci sono state diverse defezioni con alcuni giocatori che hanno chiesto di non scendere in campo. Giocatori legati all'ex tecnico Massimo Morgia. A questo punto potrebbero esserci provvedimenti. Questi giocatori potrebbero lasciare anche l'Aquila. Nelle prossime ore domani è previsto un incontro tra i dirigenti dell'Aquila e questi calciatori. Ma noi andiamo ad ascoltare proprio al 91esimo le dichiarazioni del neotecnico aquilano. Tanto ci spiace moltissimo aver fornito un secondo tempo, una prestazione in cui dopo il 1 a 0 ci siamo effettivamente squagliati. Come si viene fuori bisognerà ragionare bene con la solità, capire bene quel che dobbiamo fare nel senso che ovviamente la situazione di oggi non era semplice sotto nessun punto di vista, visti i trascorsi della settimana e visto il fatto che ci sono mancati improvvisamente 6 giocatori. Quindi non si poteva sicuramente pensare di fare delle cose straordinarie. Sicuramente neanche perdere 3 a 0 in questa maniera non è nelle corde comunque di quelli che hanno giocato. Come procedere, come sistemare? Bisogna fare un'analisi attenta e valutare quali sono gli obiettivi a breve termine e quelli eventualmente a lungo termine perché ovviamente l'obiettivo principale è sfumato ma non oggi sicuramente anche se oggi abbiamo letto Dio sicuramente a quello che la società voleva come obiettivo primario. Non è questo sicuramente l'esordio che pensavo, non è questa la squadra che pensavo di poter allenare. Una giornata così e con questa giusta contestazione non è un bel esordio sicuramente. Pensa di poter proseguire? Qual è la situazione? Io so come per lavorare e devo ascoltare ovviamente di dire la società cosa vuol fare come procedere in questo contesto ma stiamo parlando a pochi minuti dopo la partita quindi la delusione è tantissima per lo svolgimento della partita dove alla fine nel primo tempo pur non andando a un grosso ritmo si era fatto normalmente contestualmente a come nel periodo in cui veniva la squadra. Sicuramente il gol è stata una mazzata che ci ha poi impedito di provare una reazione. Abbiamo provato l'unica carta a disposizione che era Peluso anche se veniva da un infortunio già di un mese quindi squilibrandoci ulteriormente abbiamo subito due ripartenze che ci hanno punito. Queste le parole di Battistini al 91esimo sicuramente una patata bollente per il neotecnico dell'Aquila. Noi parliamo invece del derby di Giornana che si è giocato ieri a Pineto. Pineto re del derby, vastese al tappeto, decidono proietti e stacchiotti. Il gol di Galizia non basta ad evitare il K.O. in basso parla il tecnico del Pineto Amaulo che dice una grande prova di carattere. Favo, tecnico invece della vastese, loggia i suoi sotto il piano dell'impegno ma sottolinea anche gli errori e dice colpa nostra. Noi andiamo a vedere dunque le immagini di questa partita con il commento di Roberta Di Sante. Va al Pineto il primo derby del girone di ritorno al Mariani Pavone. Torna a vincere anche in casa la formazione di Amaulo e lo fa battendo di misura e con una prestazione convincente la vastese di Favo alla sua quarta partita sulla panchina aragonese. Squadra che vince non si cambia e allora Amaulo conferma in toto la formazione che ha battuto l'Alfonsine con proietti in campo dal primo minuto e la coppia d'attacco palumbo-Ciarcelluti. Favo conferma dieci undicesimi della vastese che ha sconfitto la Vispesaro con la sola variazione nel suo 3-5-2 di Galizia per Prisco a formare la coppia d'attacco con Fiore. Le due squadre si affrontano a viso aperto e giocano a ritmi altissimi fin dai primissimi minuti. La gara entra subito nel vivo. Al settimo la prima vera occasione utile. Proietti, entrato subito in partita, raccoglie la respinta della difesa vastese sulla percussione di Palumbo e fa partire un perfetto diagonale che stinzacca all'angolino per l'1-0 in favore dei locali. Immediata la risposta della vastese con Galizia che al decimo in diagonale fiore il palo alla destra di Mazzocchetti. La partita è combattuta e godibile con le due formazioni che si annullano a vicenda. Al ventiquattresimo ci prova Fiore dal limite ma la sfera termina a lato e Mazzocchetti controlla. Buone le trame di gioco da parte delle due compagini che danno vita ad una partita tutt'altro che bloccata tatticamente ma con poche occasioni. Così si va negli spogliatori sul parziale di 1-0 in favore dei locali. Nella ripresa le due squadre tornano in campo con lo stesso piglio propositivo. Al quarto, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Proietti ci prova Esposito, fuori bersaglio. Un minuto più tardi Manzo dal limite spedisce alto. Al nono il Pinedo raddoppia. E' sempre Proietti, il migliore in campo a confezionare il calcio di punizione dalla sinistra per la testa di Capitano Stacchiotti che è velocissimo ad insaccare firmando il 2-0 e il quarto centro stagionale. Favo corre immediatamente ai ripari, fuori Cosenza, dentro Prisco a dar manforte in avanti. I biancorossi non ci stanno e al diciottesimo riaprono la partita. Fiore confeziona un buon assist per Galizia che scatta sul filo del fuorigioco e con un preciso pallonetto scavalca Mazzocchetti in uscita e accorcia le distanze. Ora la vastese ci crede e spinge in avanti alla ricerca del pari. Favo getta dentro anche Felici per Bartoli trasformando il modulo in una sorta di 4-2-4. La vastese a trazione anteriore trova un paio di spunti in avanti senza tuttavia riuscire a mettere pressione a Mazzocchetti perché il Pineto si difende con ordine. La partita è agonisticamente molto combattuta e a farne le spese al 43esimo e Capitan Allocca che viene espulso con rosso diretto dal direttore di gara Angelucci, reo di aver sfiorato un colpo proibito ai danni di Stacchiotti. L'ultima occasione prima del triplice fischio è la traversa centrata da Prisco, fermato però in posizione di offside. Dopo 4 minuti di recupero il Pineto può così festeggiare il ritorno alla vittoria tra le muramiche con una prestazione importante come chiesto in settimana da società e tifosi. Non riesce a vincere in trasferta dal 20 novembre invece la vastese che pur giocando una buona gara viene scavalcata dall'Agnonese in classifica mentre resta a due lunghezze la distanza dall'obiettivo playoff. Siamo sulle pagine del Messaggero per vedere la prima delle due pagine che riguarda la serie D. L'Aquila ora cambia la società perché dopo il disastro e l'ammutinamento dei giocatori può rientrare Mastropietro e dunque potrebbero esserci novità in casa aquilana sul fronte societario. E poi in alto si parla invece dell'Avezzano. Siamo sempre al girone G1. Buon Avezzano che si arrende però nel finale a Monterosi. La squadra abruzzese controlla bene ma poi subisce il gol di Manoni. Avezzano che si allontana ulteriormente dalla zona playoff. Ma andiamo a vedere il servizio sulla sconfitta dei marsicani sul campo del Monterosi. Manoni di Monterosi arriva all'Avezzano. Padroni di casa in larga parte confermati rispetto a quegli usciti vittoriosi domenica scorsa da Città di Castello. Fanasca sostituisce l'infortunato Palumbo. La squadra di casa parte subito forte. Al settimo grande botta dalla distanza di Manoni che sfiora all'Eurogoal della domenica. Al dodicesimo altra conclusione da fuori di Sivilla. Lewandowski risponde e deve in angolo. Due minuti dopo l'estremo difensore dell'Avezzano vola sul sinistro di Matusalem. Monterosi vicino ancora una volta al gol. Al diciottesimo Pippi, Sivilla e Buono vengono murati dalla difesa abruzzese. È un assolo quello della formazione di mister D'Antoni. Al ventiquattresimo 1-2 di Sivilla con Pippi ma ancora una volta Lewandowski è super e si guadagna la palma del migliore in campo. Come un minuto dopo quando Sivilla riconsegna il favore al brasiliano neutralizzato in uscita dal portiere biancoverde. Il primo a fondo dell'Avezzano si registra al trentatreesimo. Padovani scappa via a Matrone sulla sinistra ma sul traversone salva tutto Montesi. La ripresa riparte sotto una fitta pioggia. Al diciottesimo sulla punizione di Buono smanaccia ancora Lewandowski. Due minuti dopo D'Antoni si gioca la carta a peronullo che rileva Orlando Fanasca. Al ventiduesimo del secondo tempo colpo di testa di Manoni. Pippi insacca ma l'assistente alza la bandierina. Tre minuti più tardi sbaglia il tempo di uscita Gasperini contro piete di Padovani e Mazzoleni è bravo e si salva coi piedi. Forzing del Monterosi che al ventottesimo trova il meritato vantaggio. Traversa su un colpo di testa ma a Manoni da due passi si tuffa e fa 1 a 0. Esplode il Martoni che due minuti dopo esulta di nuovo per il gol di Sivilla che viene annullato per offside. Al trentunesimo show di peronullo. L'ex viterbese parte sulla sinistra. salta due avversari ma sul traversone insidioso la difesa abruzzese si salva ancora. Costantini e Bailon entrano a difesa del vantaggio. Il Monterosi porta a casa altri tre punti che le consentono di restare in scia di Rieti ed Arzachena. E questo dunque il servizio sul K.O. esterno della squadra del presidente Paris. Siamo ancora dalle pagine del messaggero. Pineto il derby vale un pezzo di salvezza. Abbiamo visto il servizio. Invece ora parliamo del San Nicolò autore di un colpaccio in terra romagnola. Possiamo vedere qualche immagine della gara giocata sul campo della San Maurese. San Nicolò che si è imposto per 1-0 proprio sui romagnoli. San Nicolò in maglia blu. San Maurese in casacca giallorossa. Dunque una vittoria importante per la formazione di Massimo Epifani a decidere la partita. È stato un gol di Bisegna. Tre punti fondamentali per la squadra di Massimo Epifani per mantenersi in alta quota in zona playoff. Ma grande protagonista di giornata è stato il portiere del San Nicolò Ciotti che ha parato un rigore. Secondo penalty consecutivo parato dal portiere. Ecco vediamo proprio il momento della battuta del penalty e la parata del portiere Ciotti. Grande protagonista nella sfida di ieri in terra romagnola a San Mauro Pascoli. Ottimo colpo di reni del giovane portiere del San Nicolò che è riuscito a salvare porta e risultato quando il punteggio era ancora fermo sullo 0-0. Il San Nicolò ha anche sofferto la pressione dei padroni di casa ma poi la formazione ospite è riuscita a vincere con un gol di Bisegna. Ecco qui la rete dell'ex giocatore dell'Avezzano che non ha avuto problemi a mettere il pallone in rete. Un gol pesante, una rete pesante per Bisegna. Un gol da tre punti per la formazione di Massimo Epifani che negli spogliatoi al novantunesimo ha detto che sofferenza nel ripresa. Ma per il sì, Nannicolò si è trattato di un successo importante. Vediamo altre azioni con la San Maurese che chiede in questa occasione anche un altro rigore ma con il direttore di gara che lascia proseguire. Dunque possiamo rientrare in studio dopo aver visto le immagini su questa partita giocata a San Mauro Pascoli con la vittoria della formazione di Massimo Epifani per 1-0. Il gol vittoria di Bisegna è il rigore parato dal portiere Ciotti. Lasciamo il calcio, siamo sempre sul messaggero, parliamo di volley, sieco travolgente, liquida Montecchio. Ortona si riscatta subito e chiude il girone di andata con una netta vittoria. 3-0 per la formazione di Mister Lanci. E poi il rugby, l'Aquila batte Prorecco e consolida il secondo posto. Big match al fattori del girone promozione, festa per la formazione aquilana. E poi buone notizie anche nella pool salvezza per la formazione del Gran Sasso. Corsara sul campo del Prato. E poi il basket, in questo caso, fermi ieri i campionati. Smith braccia a spaia, Roseto sbarca ad Atlanta. E poi si parla invece nell'altro articolo della Proger Chieti, parla coach Bartocci che dice che la Proger aveva speso tanto. La sosta ci farà bene. Possiamo tornare alle pagine del centro per vedere l'articolo che riguarda il San Nicolò. Bisegna mette le ali al San Nicolò, successo in casa della San Maurese. Attacco al secondo posto da parte della formazione di Massimo Epifani. Siamo al calcio dilettantistico regionale. Possiamo andare a vedere i risultati dell'eccellenza Abruzzo. I risultati della giornata di ieri. 27esimo turno. Alba Adriatica, Martinsicuro 1-2. Amiternina, San Salvo 1-2. Cupello, Paterno 1-0. Francavilla, Acqua e Sapone 1-1. Montorio, Batte, Virtus Teramo 3-1. Nero Stellati, Pratola, Riverchieti 1-0. Penne, Capistrello 2-1. Angolana, Miglianico 0-0. San Buceto, Morrodoro 2-0. In classifica allunga il Martinsicuro, primo con 56 punti. Nero Stellati, Pratola, 53. Paterno, 51. Francavilla, 50. Angolana, 48. In coda l'ultimo posto della Virtus Teramo con 20 punti. Poi Montorio, 24. Amiternina, Penne 25. Morrodoro, 27. E dal campionato regionale di eccellenza a quello di promozione, perché nel Girone A il Real Giulianova fa il vuoto. In testa alla classifica vince in rimonta e allunga a più 8 sulla torrese. Real Giulianova che batte il San Benedetto dei Marsi per 4-1. A1 e grazie alla sconfitta della torrese sul campo del San Gregorio per 2-0 si porta a più 8 sulla formazione Teramana. Vediamo anche il Girone B per quanto riguarda il campionato di promozione. Anche in questo caso la Chieti Torre Alex è ormai virtualmente promossa. Chieti Torre Alex che non lascia scampo al Silvi. I teatini passano sul campo della formazione adriatica con il risultato di 2-0. Non demorde lo spoltore, ma solo per quanto riguarda la piazza Donore. A formazione di Donato Ronci che ha battuto il Castello 2000 con il risultato di 4-0. Lo spoltore resta al secondo posto, staccato però dalla Chieti Torre Alex. Lasciamo il calcio dilettantistico regionale per arrivare alla pagina dedicata al volley, alla serie A2, alla pool salvezza con la Sieco. L'abbiamo visto anche prima che mette al sicuro tre punti salvezza, battendo per 3-0 la formazione del Montecchio. Vediamo anche il computo dei set. Primo set 25-20 in 24 minuti, secondo set 25-16 in 21, terzo 25-19 in 25 minuti. Gli ortonesi a gonfie vele nei match interni, dunque chiudono bene il girone d'andata. Buckegaard, grande mattatore di questa partita. Vediamo anche i risultati e la classifica della pool salvezza di volley di serie A2. Lago Negro, Brescia 1-3, Potenza Picena, Cantù 2-3, Sieco Ortona, Montecchio 3-0. Alessano, Mater Domini 2-3, Club Italia, Grottazzolina 3-0. In classifica, Lago Negro 28 punti, Brescia 25, Sieco Ortona 24, Cantù 21, Potenza Picena 21, Alessano 20, Mater Domini e Grottazzolina 19, Montecchio Maggiore 15. Chiude il Club Italia con 7 punti, si torna in campo il 12 marzo. E dunque domenica prossima vediamo gli impegni del Pineto. Pineto che giocherà sul campo dei Lombardi del Cantù. Vediamo anche le altre partite. Grottazzolina, Lago Negro, Brescia, Potenza Picena, Montecchio Maggiore, Alessano e Mater Domini, Club Italia. Dunque una buona giornata per il volley abruzzese con la Sieco Ortona vittoriosa. Siamo al basket. Ieri, come detto, giornata di riposo per le formazioni dei campionati di basket. Roseto dopo il relax però c'è il Mantova. Mentre in Casachieti Bartoccia carezza la proggia. Il punizione è dato un segnale perché l'altra mattina il coach dei Tatini spiega infatti gli allenamenti alle 7 del mattino per la salvezza, niente distrazioni, neanche in amichevole. E dunque c'è stato questo allenamento al mattino per la formazione teatina. In basso si parla di basket di Serie B. Pescara rinforzato, Giulianova domani in campo. Fermo il campionato di Serie B per gli impegni di Coppa. Coppa Italia vinta da Napoli. Ortona alla ripresa giocherà con il Monteroni ma domani tornerà in campo il Giulianova per un recupero di campionato. Siamo così giunti al termine dopo questa ampia pagina sportiva del lunedì dell'appuntamento, del primo appuntamento della settimana con Mattino 6. Io vi ringrazio come sempre per la cortese attenzione. Ringrazio Gianni Dareo in regia. E vi ricordo il primo appuntamento con il nostro telegiornale come sempre oggi alle 14. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.